Coca-Cola riapre a Gaglianico e annuncia il più importante investimento in sostenibilità nella storia del gruppo. Si parla di 30 milioni di euro per convertire lo stabilimento biellese in un impianto innovativo, capace di trasformare fino a 30.000 tonnellate di PET all'anno in nuove bottiglie destinate all'imbottigliamento. L'azienda si estenderà su una superficie di 18.000 metri quadrati e sarà alimentata al 100% con energia da fonti rinnovabili. Prevede a pieno regime l'impiego di oltre 40 dipendenti diretti. Nonostante la difficoltà del nostro settore legate alla pandemia e all'incubo di sugar e plastic tax che restano confermate, continuiamo ad investire, ha dichiarato Franco Donald, General Manager di Coca-Cola Italia. Siamo orgogliosi di poter dare una seconda vita a questo stabilimento. Il progetto per Gaglianico si svilupperà in due fasi. Una prima entro marzo, in cui lo stabilimento attiverà il processo di trasformazione della resina, sia di PET vergine sia riciclato, in preforme che poi diventeranno bottiglie tramite un apposito procedimento di soffiatura. Una seconda fase a luglio, nella quale la resina di PET diventerà l'unica resina utilizzata all'interno dello stabilimento.